Il settore alberghiero continua ad essere quello più colpito dalla pandemia. A distanza di un anno la situazione ad oggi resta sempre la stessa, anche a Pesaro come in altre città il ponte di Pasqua e Pasquetta salterà di nuovo per via della chiusura della maggior parte degli alberghi. Le strutture ricettive aperte si contano sulle dita di una mano, sono ad oggi soltanto 5 su 40. Drammatica la stima della perdita relativa alle presenze turistiche per il 2021 e i bilanci per il futuro non sono positivi. In questo momento sono aperti 5 o 6 hotel, ma molto probabilmente un paio chiuderanno questo fine settimana o la prossima settimana, quindi si assottiglia ancora di più la lista degli alberghi aperti perché non c'è lavoro, non c'è lavoro commerciale, non c'è lavoro business, non ci sono eventi, quindi nulla si può fare e quindi per noi significa perdere dalle 30 alle 40 mila presenze. Previsioni per l'estate, qualcosa cambierà? Ma per l'estate tutti dicono che cambia e che quindi ci saranno tanti turisti, ma il problema è quanto possiamo iniziare a lavorare, è proprio questo, quando possiamo iniziare a lavorare, quindi presuppongo che se le cose andranno così i tempi non saranno molto più lunghi rispetto a quelli dell'anno scorso, quindi non prima di giugno. Stessa situazione anche a Fano, come evidenzia il presidente provinciale di Federalberghi, Luciano Cecchini. Nelle nostre città, io dico quasi tutte le città italiane perché siamo tutti in zona rossa, in questo momento nessuno si può muovere, gli alberghi sono vuoti, non ci sono pronotazioni. Per Pasqua ormai ci siamo rassegnati e saremo quasi tutti chiusi le nostre attività. Il vaccino è la cosa più importante che c'è perché se noi riusciamo a vaccinarci tutti, come io ho fatto l'esempio giorni fa con dei signori, si parlava della Sardegna, la Sardegna da zona bianca è passata in zona arancione. Cosa vuol dire? Finché non saremo tutti vaccinati qui non possiamo fare un calcolo, la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, bisogna stare molto attenti. Quello che dico è che la nostra categoria è stata quella più penalizzata di tutti. Il settore alberghiero fino adesso è stato sempre messo in disparte, si parla molto di turismo ma in sé per sé ancora siamo molto 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 indietro sia con i ristori sia con le agevolazioni. Qui l'Italia potrebbe campare di turismo come parlano tutti ma se ne fanno poche di cose.